E ora la pallavolo, parliamo della Valsa Group che ieri ha perso in casa al Palapanini 3-2 contro Milano la terza sconfitta nelle prime quattro giornate di Superlega una sconfitta che poteva essere evitata, un'occasione mancata perché Modena vinceva 2-7-1 addirittura 21-17 nel quarto sette, invece è arrivato appunto il K.O. 16-14 al quinto mercoledì si torna in campo al Palapanini contro Trento sentiamo le parole a fine partita di Adis Lagungia, migliore in campo 28 punti per l'opposto giallo-blu e di Andrea Gianni Ogni tanto giochiamo a alto livello, anche Milano è una partita a alto livello è andato in tiebreak, in momenti che perdiamo tanti punti, 3-4 punti che non si succede però dobbiamo lavorare questo, che questa mentalità non è niente altro però abbiamo giocato bene, dopo l'Ube è molto molto meglio è peccato che abbiamo perduto il primo quarto set perché è 21-17 e dopo anche il tiebreak che è configurato al 14-14 è peccato abbiamo perso un quarto sette avanti dà un po' fastidio come l'abbiamo perso perché qualcosa nell'atteggiamento non mi è piaciuto onestamente perché quello è un momento proprio utopico della partita importante 3 sconfitti in 4 giornate, questi sono i numeri poi è chiaro che la squadra è 9, è chiaro che c'è un percorso mercoledì c'è Trento, insomma sei un po' preoccupato, ti aspettavi qualcosa in più? sapevamo di un inizio non facile questo lo sapevamo io l'unica partita, ripeto, che non abbiamo giocato di queste quattro è a Civitanova poi abbiamo perso due tebreak significa che comunque la squadra nella sua imperfezione sta a stare nella partita senti per vincere le partite tutto quest'anno forse non potete permettere di un in gappe così soprattutto non so se sei d'accordo non possiamo essere dipendenti da un giocatore che è diverso e qualche volta il giocatore deve mettersi a disposizione della squadra anche quando non sta bene anche quando c'è qualcosa che non va io credo che il giocatore con caratura, con esperienza deve sapere stare in campo ed essere sempre propositivo con gli altri